Buona domenica, oggi 18 dicembre è la quarta domenica di avvento. La frase evangelica di questa domenica dice così, Giuseppe non temere, il bambino che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo. È l'annuncio dell'angelo a Giuseppe nel sogno, Giuseppe non temere, il bambino che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo. La vita di Maria e Giuseppe fu sconvolta quando si trovarono al centro del piano di Dio per la salvezza del mondo. Questo sconvolgimento dei loro piani, dei loro progetti spaventò tutti e due, ma la grandezza della loro fede li rese ambedue capaci di fidarsi di Dio anche quando non capivano dove dovesse condurli. Giuseppe non temere. Questa prova la viviamo in piccolo tutti noi, davanti a scelte esigenti che ci chiede di fare la fede. Anche noi dobbiamo sentirci dire dal Signore non temere. Solo chi si fida di Dio può collaborare con Lui per fare cose grandi. E tuo fratello, tua sorella, potrai fare cose grandi se collabori con Dio nel bene e non ti lasci vincere dal timore. Ascolta questa parola. Giuseppe non temere. Il bambino che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo. Buona domenica.